Sì, a tradimento, hai lavorato poco per oggi, eh? Eh sì, sì, è vero. Sei arrivato da poco, ho fatto colazione, dormita lunga. No, ero dall'altra parte. Ero dall'altra parte. Sì, è il magliettino arangione che mi ho messo, eh? Sì, stai a riprendere anche. Vale Roma, via! Vali in coppia, patinella! Vai, vai, vai! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti